Eccoci qui con un altro bellissimo cosplay dal RomX 2015, oggi è sabato Sì, oggi è il giorno un po' di punta di questo RomX, infatti ho sfoggiato il mio costume migliore per... Ce lo spieghi? Allora, questo cosplay è un personaggio di un videogioco, ormai il videogioco più giocato al mondo, che è League of Legends League of Legends Sì, interpreto Kartus, diciamo un costume particolare per un evento che c'è stato, che ha determinato la vittoria di un mondiale, di un team E ha dedicato questo cosplay a quel team che ha vinto il mondiale, insomma Molto bello, tu vieni da Roma? Sì, sì, qua vicino Ieri cosa hai indossato? Ieri ho fatto un cosplay One Piece, Buggy Clown ho fatto One Piece, benissimo, allora buon proseguimento, ciao Buon RomX Grazie, altrettanto